salve a tutti ragazzi oggi vorrei vedere come appunto giocare a rocker league a 60 fps su nintendo switch dovete andare in impostazioni e andare su video e mettere qualità del video cioè prestazioni una volta fatto vi girerà già a 60 fps comunque spero che questo tutorial vi sia piaciuto però intanto facciamo una partita sull'app su una nuova modalità siamo già in questa partita vediamo su uno a uno ho segnato abbiamo rimontato a 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